L'autobus era tranquillo e avevo un posto tutto per me, con la spesa del vecchio in due borse riutilizzabili al mio fianco. Avevo buttato via le salsicce e il formaggio arancione, ma avevo tenuto il latte per me, ragionando che non era un furto, perché comunque lui non avrebbe potuto usarlo. Avevo avuto qualche scrupolo nel buttare via gli altri articoli deperibili. Mi rendo conto che qualcuno pensa che sprecare sia sbagliato e dopo un'attenta riflessione tendo a essere d'accordo. Tuttavia sono stata educata a pensarla diversamente. La mamma diceva sempre che solo i contadini e le sudice formichine operaie si preoccupavano di banalità del genere. La mamma diceva che in casa nostra eravamo imperatrici, sultane e maharani, ed era nostro compito vivere una vita di piaceri sibaritici e di vizi. Per lei ogni pasto doveva essere una festa epicurea per i sensi, ed era meglio morire di fame che guastarsi il palato con bocconi e menche squisiti. Mi raccontava che aveva mangiato tofu fritto nel Cili nei mercatini notturni di Kouloun e che il sushi migliore fuori dal Giappone si trovava a San Paolo del Brasile. Il piatto più delizioso della sua vita, mi aveva detto, era stata la piovra alla griglia che aveva mangiato al tramonto in una taverna senza pretese, davanti al porto di Naxos. Aveva osservato un pescatore che l'aveva consegnata la mattina, e poi aveva sorseggiato Uzzo tutto il pomeriggio, mentre il personale di cucina la sbatteva ripetutamente contro il muro per ammorbidirne la carne pallida con le ventose. Devo chiederle com'è il cibo dove si trova adesso. Sospetto che il tè Lapsang, Suchong e i biscotti Lang Desha scarseggino. Ricordo di essere stata invitata una volta a casa di una compagna di classe, dopo la scuola. Io, da sola. L'occasione era un tè. Di per sé questo già generava una certa confusione. Non senza ragione mi ero aspettata un tè pomeridiano, mentre sua madre ci aveva preparato una specie di anticipo di cena. Me la vedo ancora. Un'immagine arancione e beige. Tre bastoncini chiari di pesce, una pozzanghera di fagioli stufati e un mucchietto pallido di patatini al forno. Non avevo mai visto, né assaggiato, se era per quello, dei cibi simili. E dovete chiedere cosa fossero. Daniel Mears lo raccontò a tutti in classe il giorno dopo. E tutti si misero a ridere, chiamandomi fagiola strana, abbreviato in fagiolina, che per un po' mi rimase appiccicato addosso. Non importa, per me la scuola è stata un'esperienza di breve durata. Ci fu un incidente con un insegnante troppo invadente, che suggerì una visita nell'infermeria scolastica. Dopodiché la mamma stabilì che la suddetta insegnante era una zuccona semi-analfabeta e monolingue, la cui unica qualifica degna di nota era un certificato di primo soccorso. Da quel momento in poi ricevetti la mia istruzione a casa. Quella volta, la madre di Daniel ci diede per dessert uno yogurt mung-bung. E io infilai di nascosto il vasetto vuoto nella cartella, così da poterlo esaminare più tardi. A quanto pareva, era un prodotto collegato a un programma televisivo per bambini, con pezzi di frutta animati. E poi dicevano chi ero io, quella strana. A scuola era fonte di disgusto per gli altri bambini che io non potessi parlare di trasmissioni tv. Noi non avevamo la televisione. La mamma la chiamava il cancerogeno catodico, cancro dell'intelletto. Così leggevamo o ascoltavamo dei dischi. Oppure qualche volta giocavamo a Beggemon o a My Young, se era dell'umore giusto. Colta alla sprovvista della mia mancanza di familiarità con gli alimenti pronti surgelati, la madre di Daniel Mirs mi chiese che cosa prendevo solitamente la sera per il tè del mercoledì. Non c'è una regola fissa? Dissi. Sì, ma di solito che genere di cose mangiate? Domandò sinceramente perplessa. Elencai qualche piatto. Vellutata di asparagi, con uovo d'anatra in camicia e olio di nocciola. Buia besse con ruglie fatta in casa. Pulcino glassato al miele, con fondenti di sedano rapa. Tartuffi freschi quando era la stagione, grattugiati sulle linguine al burro e porcini. Lei mi fissava. Mi sembra tutto molto pretenzioso, osservò lei. Oh no, a volte ci sono cose molto semplici. Ribatteio, come toast di lievito acido con formaggio mancego e composta di mele cotogne. Giusto, disse lei scambiando un'occhiata con la piccola Danielle, che mi guardava a bocca aperta, mostrando una manciata di fagioli parzialmente masticati. Nessuna delle due parlò, e la signora Mirs mise in tavola una bottiglia di vetro con dentro del denso liquido rosso, che Danielle scosse con veemenza fino a inondare tutto quel cibo arancione e beige. Naturalmente, dopo essere finita in affido, feci presto la conoscenza di una nuova famiglia culinaria. Aunt Bessie, Capitan Findus e Uncle Ben erano tutti ospiti fissi. E ora so distinguere le salse HP dalle deadies solo dall'odore, come un sommelier di salse. Era uno dei modi infiniti in cui la mia vecchia e la mia nuova vita differivano, prima e dopo l'incendio. Un giorno facevo colazione con anguria, feta e melograno. Il giorno dopo mangiavo pane in cassetta spalmato di margarina. O in ogni caso, questa era la storia che mi raccontava la mamma. L'autobus si fermò proprio fuori dall'ospedale. Al pian terreno c'era un negozio che vendeva un assortimento eclettico di articoli. Sapevo benissimo che era costume portare un regalo quando si faceva visita a un paziente, ma cosa comprare? Questo semi non lo conoscevo affatto. I prodotti commestibili mi sembravano inutili, dato che lo scopo della mia visita era portargli il suo cibo, articoli che si era scelto da solo molto di recente. Poiché era in coma, qualcosa da leggere risultava alquanto irrilevante. Comunque non c'era molto altro che fosse adatto. Il negozio offriva anche una piccola gamma di prodotti per l'igiene personale, ma mi pareva inappropriato che io, una sconosciuta dell'altro sesso, gli regalassi dei prodotti che avevano a che fare con le sue funzioni corporee. E in ogni caso, un tubetto di dentifricio o una confezione di rasoi usa e getta non mi colpivano come doni particolarmente accattivanti. Cercai di ricordare il regalo più bello che avesse mai ricevuto. A parte Polly, la pianta, non riuscì a pensare a nulla. In maniera preoccupante mi venne in mente Declan, il mio primo e ultimo fidanzato. Ero quasi riuscita a cancellarlo completamente dalla memoria, quindi fu piuttosto angosciante ricordarmi di lui. Mi tornò in mente un episodio in cui, vedendo l'unico biglietto di auguri che un anno avevo ricevuto per il mio compleanno, da una giornalista che in qualche modo era riuscita a rintracciarmi con dentro un foglietto che mi rammentava che avrebbe pagato una somma sostanziosa in qualunque momento, in qualunque luogo, aveva sostenuto che gli avessi taciuto di proposito la data della mia festa. Come regalo per il mio ventunesimo compleanno, quindi, metterò un pugno nei reni. Mi prese a calci mentre ero distesa a terra fino a che non persi i sensi e poi, quando rinvenni, mi fece un occhio nero per avergli nascosto delle informazioni. L'unico altro compleanno che ricordassi era l'undicesimo. Avevo ricevuto un braccialetto in argento dalla famiglia con cui allora vivevo in affido, con appeso un ciondolo a forma di orsacchiotto. Fui molto grata di ricevere un regalo, ma non lo indossai mai. Non sono tipo da orsacchiotto. Mi chiesi che regalo avrebbe potuto farmi il bel cantante per un anniversario, diciamo per Natale, no anzi per San Valentino, il giorno più speciale e più romantico dell'anno. Avrebbe scritto una canzone per me, qualcosa di bello, e poi me l'avrebbe suonata alla chitarra, mentre sorseggiavo un calice di champagne raffreddato alla perfezione. No, non alla chitarra. Sarebbe stato troppo scontato. Mi avrebbe fatto una sorpresa imparando a suonare il fagotto. Sì, avrebbe suonato la melodia al fagotto per me. Tornando a questioni più prosaiche, e in mancanza di qualcosa di meglio, comprai delle riviste e dei giornali per semi, pensando che, se non altro, avrei potuto leggerglieli io, ad alta voce. Rappresentavano una selezione decente. Dall'aspetto e dal contenuto della sua borsa della spesa, intuì che doveva essere più un tipo da Daily Star che da Daily Telegraph. Comprai qualche tabloid e decisi di portargli anche un rotocalco illustrato. Questa era una scelta più complicata. Ce n'erano tanti, con The Nest Traveler, Yacht e Yachting Now. Come facevo a sceglierne uno? Non avevo idea di che cosa lo interessasse. Ci pensai su attentamente e razionalmente per dedurre la risposta. L'unica cosa certa che sapevo di lui era che si trattava di un maschio adulto. Tutto il resto sarebbe stata pura speculazione. Segui la legge della media. Mi sollevai sulla punta dei piedi e allungai la mano per prendere una copia di Russell. Missione compiuta. Dentro l'ospedale faceva troppo caldo e i pavimenti scricchiolavano. C'era un distributore di gel disinfettante per le mani, fuori dal reparto, e sopra un grande cartello giallo che recitava «Non bere». «Ma c'è gente che beve il gel disinfettante?» Immaginai che dovessero averlo fatto. Ecco il motivo del cartello. Una parte di me, un frammento molto piccolo, riflettesse chinare la testa per assaggiarne una goccia, unicamente perché mi veniva ordinato di non farlo. «No, Eleanor», mi dissi. «Tieni a freno le tue tendenze ribelli e limitati al tè, al caffè e alla vodka. Mi preoccupava usarlo sulle mani, per timore che infiammasse il mio eczema, ma poi lo feci lo stesso. L'igiene è importantissima. Non volesse il cielo che finissi per diventare un vettore di infezione. Il reparto era grande, con due lunghe file di letti, una per ogni parete. Tutti i degenti erano intercambiabili, vecchi sdentati e calvi che dormivano o fissavano davanti a sé nel vuoto, il mento sul petto. Individuai Sammy, proprio alla fine del lato sinistro, ma solo perché era grasso. Gli altri erano un mucchietti di ossa rivestiti di pelle grigia tutta grinze. Mi sedetti sulla sedia di vinile pulita accanto al suo letto. Non c'era traccia di Raymond. Sammy aveva gli occhi chiusi, ma ovviamente non era in coma. «Se così fosse stato, l'avrei trovato in un reparto speciale, collegato a dei macchinari, no?» Mi chiesi perché Raymond mi avesse mentito al riguardo. Tal modo regolare con cui il torace si alzava e si abbassava, intuivo che Sammy stava dormendo. Decisi di non leggergli nulla, perché non volevo svegliarlo, e così misi il materiale da lettura in cima all'armadietto, di fianco al letto. Aprì lo scomparto anteriore, pensando che la cosa migliore fosse depositarvi all'interno le borse. L'armadietto era vuoto, a parte un portafogli e un mazzo di chiavi. Mi domandai se fosse il caso di sbirciare nel portafogli per vedere se conteneva qualche indizio su di lui, e già stavo per allungare la mano quando, dietro di me, sentii qualcuno schiairsi la gola, un rumore catarroso che indicava un fumatore. «Eleonor, sei venuta!» disse Raymond, accostando una sedia all'altro lato del letto. Io lo fissai. «Perché hai mentito, Raymond? Sammy non è in coma, è soltanto addormentato, non è esattamente la stessa cosa.» Raymond rise. «Ma è una notizia fantastica, Eleonor, si è svegliato un paio d'ore fa. A quanto pare ha una grave commozione cerebrale e un'anca rotta. Gliel'hanno sistemata ieri, è ancora molto stanco per via dell'anestesia, ma dicono che si riprenderà.» Annui e mi alzai di scatto. «Allora è meglio lasciarle in pace», dissi. Non vedevo l'ora di uscire dal reparto a essere franca. Faceva troppo caldo e mi era troppo familiare. Le coperte a nido d'ape, gli odori chimici e umani, le superfici rigide del letto di metallo e le sedie di plastica. Mi pungevano un po' le mani per via del gel che era penetrato nelle fissurazioni della pelle. Ci dirigemmo insieme verso l'ascensore e scendemmo in silenzio. Al pian terreno le porte si aprirono e io sentì le gambe che acceleravano da sole verso la porta principale. Era una di quelle belle sere di mezza estate. Erano le otto, faceva ancora caldo e la luce era dorata. Non si sarebbe fatto buio prima delle undici.» Raymond si tolse la giacca, mostrando un'altra maglietta ridicola. «Questa era gialla e aveva due galletti da fumetto sul davanti. Lo spoglio sermanos», diceva, strampalato. Guardò l'orologio. «Vado a prendere qualcosa da mangiare e poi faccio un salto a casa del mio amico Andy. Di solito ci ritroviamo lì con qualcun altro il sabato sera. Accendiamo la PlayStation, ci facciamo qualche sigaretta e un paio di birre.» «Mi sembra assolutamente delizioso», commentai. «E tu?», chiese. «Io sarei andata a casa, ovviamente, a guardare qualche programma in tv o a leggere un libro. Che cos'altro avrei dovuto fare?». «Ritornerò a casa mia. Credo che più tardi in serata ci sia un documentario sui draghi di comodo, su BBC Four.» Lui guardò ancora l'orologio e poi alzò gli occhi allo sconfinato cielo azzurro. C'è un momento di silenzio, interrotto da un merlo, che cominciò a esibirsi, un canto così spettacolare da sconfinare nel volgare. Restammo entrambi ad ascoltarlo e quando io sorrisi a Raymond, lui mi sorrise a sua volta. «Senti, è una serata troppo bella per rinchiuderti in casa da sola. Ti va di prendere una birra veloce da qualche parte? Dovrò andarmene tra un'oretta prima che il negozio chiuda, però». Quella proposta richiedeva una riflessione accurata. Non andavo in un pub da parecchi anni e Raymond non si poteva definire una compagnia attraente. Tuttavia giunsi rapidamente alla conclusione che sarebbe stato utile per due motivi. In primo luogo sarebbe stato un buon esercizio, perché se le cose filavano lisce, probabilmente Johnny Lomond avrebbe voluto portarmi in un pub durante uno dei nostri appuntamenti e quindi dovevo cominciare a familiarizzare con l'ambiente e i comportamenti richiesti in questi locali. In secondo luogo, Raymond era un esperto di informatica, a suo dire, e a me servivano dei consigli che mi sarebbero costati molto se avessi dovuto ottenerli tramite canali ufficiali, mentre quella sera avrei potuto chiederli gratis a lui. Tutto sommato mi sembrava più pratico a consentire alla richiesta di Raymond, che stava guardando a media distanza e, avevo notato, si era acceso una sigaretta fumandone quasi metà mentre io riflettevo. «Sì, Raymond, vengo con te al pub a bere qualcosa», risposi annuendo. «Magico», disse lui. Finimmo in un bar a cinque minuti dall'ospedale, su una strada trafficata. Uno dei tavolini all'esterno era libero. La superficie di metallo era coperta di macchie tonde e le gambe sembravano instabili, ma Raymond pareva contento. «Tavolini all'aperto», esclamò, buttandosi a sedere tutto allegro e appendendo la giacca sullo schienale della sedia. «Va bene, vado a ordinare», aggiunse. «Cosa prendi, Eleanor?». Sentii l'ansia sfarfallarmi nello stomaco. «Inanzitutto, restando seduta fuori, non avrei visto l'interno del pub e non avrei potuto osservare ciò che vi accadeva. Poi non sapevo che cosa ordinare. Che cosa beveva la gente normale al pub?» Decisi di prendere il controllo della situazione. «Vado io a ordinare, Raymond. Insisto. Che cosa vuoi?» Cercò di discutere, ma io rimasi inflessibile. Così alla fine acconsentì, anche se sembrava seccato. Non riuscivo proprio a capire perché facesse tante storie. «Bhe, d'accordo. Allora credo che prenderò una pinta di Guinness. Però vorrei che tu lasciassi andare me, Eleanor». Appoggiai entrambe le mani sul tavolo e mi chinai avvicinando molto la mia faccia alla sua. «Raymond. Pago io da bere. È importante per me, per motivi che non intendo esprimere ora». Lui fece spallucce, quindi annui. E io mi diressi verso la porta. Dopo la luce del sole, dentro, mi sembrò molto buio e anche rumoroso. C'era musica di un genere a me sconosciuto che rimbombava da grandi casse. Il luogo non era gremito ed ero l'unica cliente al bancone. Un ragazzo e una ragazza stavano servendo, o, per meglio dire, erano impegnati in una fitta conversazione tra di loro e ogni tanto lei ridacchiava come una stupida, scuotendo i capelli tinti di giallo. Oppure lui le dava un pugno per scherzo e rideve in maniera eccessivamente rumorosa e forzata. I rituali di accoppiamento degli esseri umani sono incredibilmente noiosi da osservare. Almeno nel regno animale c'è il raro sfoggio di piume scintillanti o l'esibizione di una violenza spettacolare. Agitare i capelli o fingere di lottare non soddisfacevano le mie aspettative. Ero annoiata e bussai forte tre volte sul bancone di legno, come se fosse una porta d'ingresso. Entrambi alzarono lo sguardo e io chiesi una pinta di Guinness che il ragazzo cominciò a spillare da un rubinetto. Nient'altro? Chiese. Rimasi di stucco. Pensavo che parte del suo mestiere consistesse nell'aiutare i clienti in situazioni simili. Che cosa mi consigli? Gli chiesi. Lui alzò lo sguardo dal liquido nero che sgocciolava nel bicchiere. Eh? Ho detto che cosa mi consiglieresti? Di solito non bevo nei pub. Guardò alla sua sinistra, poi alla sua destra, come se si aspettasse che ci fosse qualcuno. Ci fu una lunga pausa. Beh, il Sidro Magners è molto popolare. Con ghiaccio? È una bella bevanda estiva. Giusto, dissi. Grazie. In questo caso, seguo il tuo suggerimento e prendo un Magners. Lui aprì una bottiglia marrone e la posò sul bancone. Mise del ghiaccio in un bicchiere alto e lo appoggiò di fianco alla bottiglia. E questo che cos'è? Chiesi. Il Magners. E il bicchiere vuoto a che cosa serve? È per il Magners, rispose. E tocca a me versare la bevanda dalla bottiglia nel bicchiere? Domandai perplessa. Questo non è il tuo lavoro? Lui mi fissò e poi, piano piano, versò il liquido marrone sul ghiaccio e infine posò la bottiglia con molta forza. Anzi, praticamente la sbatté sul bancone. Otto sterline e settanta, disse, con tono molto sgarbato. Gli porsi una banconota da cinque sterline e quattro monete da una sterlina, poi presi il resto e lo infilai meticolosamente nella borsetta. Per caso avete anche un vassoio? Chiesi. Lui mi sbatté davanti un vassoio sporco e appiccicoso e rimase a guardare mentre vi posavo le bevande, dopodiché mi voltò la schiena. C'è una tale penuria di buone maniere nel cosiddetto settore dei servizi? Raymond mi ringraziò per il drink e beve un gran sorso. Il Magners era molto gradevole e modificai la mia opinione sul giovane barista. Sì, la sua capacità di servire i clienti era scarsa, ma almeno sapeva dare consigli appropriati sulle bevande. Di sua iniziativa Raymond cominciò a raccontarmi di sua madre. Mi disse che sarebbe andato a trovarla il giorno dopo, come faceva ogni domenica. Era vedova e non stava benissimo. Aveva un sacco di gatti e lui l'aiutava a prendersi cura di loro. Non la smetteva più di chiacchierare con voce monotona. Lo interruppi. Raymond? Dissi. Posso chiederti una cosa? Lui sorseggiò la sua pinta. Certo. Se dovessi comprare uno smartphone, che tipo mi consiglieresti? Mi sto informando sui meriti relativi degli iPhone rispetto agli Android e mi piacerebbe conoscere il punto di vista di uno del mestiere sul rapporto costi-benefici, per così dire. La mia domanda lo lasciò alquanto sorpreso. Il che era strano, dato che lavorava nel settore dell'informatica e quindi di domande sulla tecnologia dovevano avergliene fatte di frequente. Giusto, beh. Scrollò la testa in maniera lievemente canina, come per sbarazzarsi dei pensieri. Dipende da un sacco di fattori. Si dilungò per un bel po' su questi fattori, senza però arrivare a conclusioni utili. E poi guardò l'orologio. Merda! È meglio che scappi. Devo andare a prendere delle birre prima di presentarmi da Andy e sono quasi le dieci. Si scolò la sua pinta, si alzò e si infilò la giacca, anche se non faceva affatto freddo. Ce la fai ad andare a casa da sola, Eleanor? Chiese. Oh sì? Dissi. Vado a piedi. È una serata così bella e c'è ancora chiaro. Benissimo allora. Ci vediamo lunedì. Passa bene il resto del weekend. E si girò per andarsene. Raimond, aspetta! Lo bloccai. Lui si voltò verso di me sorridendo. Che cosa c'è, Eleanor? La Guinness, Raimond. Fanno tre sterline e cinquanta. Lui mi fissò. D'accordo, aggiunsi. Non c'è fretta. Puoi darmele lunedì se ti è più comodo. Lui contò quattro monete da una sterlina e le mise sul tavolo. Tieni il resto, disse, e se ne andò. Stravagante. Infilai i soldi nella borsetta e finì il mio Magners. Ringalluzzita dal sapore delle mele, decise di fare una deviazione lungo la strada verso casa. Sì, perché no? Era giunta l'ora di fare un giro di ricognizione.